Partono da Siena i festeggiamenti per i 10 anni del trekking urbano, il programma di percorsi a piedi nelle città italiane tra arte e natura adatto a tutte le età. Nella città toscana che nel 2002 lanciò l'idea saranno ben 10 le giornate di trekking dal 25 ottobre al 3 novembre con la possibilità unica di visitare le stanze segrete di Palazzo Pubblico. Il 31 ottobre invece il decennale sarà festeggiato con passeggiate in contemporanea e 35 città diverse da nord a sud dell'Italia. Grazie a tutti.